e bello ragazzi sono il gilberga, sono qui oggi ragazzi a portarvi un video importantissimo infatti mi mostro tutte quelle che sono le location, i luoghi in cui possiamo trovare dei canestri infatti questa settimana qua ci sarà la sfida di fare canestri in posti differenti io vi cerco di mostrarveli, mi sembra di averli mostrati tutti, non sono sicuro ma dovrebbero essere tutti se ne sapete di altri scrivetelo qua sotto nei commenti così ci aiutiamo a vicenda vi ricordo prima di iniziare che in sottofondo vi sto facendo vedere comunque tutti i luoghi vi ricordo anche che in contemporanea è uscito il video in cui vi mostro la stella segreta di questa settimana qua anche un'altra cosa ragazzuoli, mi manca veramente pochi iscritti verso i 5000, siamo a 4500 quindi se vi interessano i video di Fortnite o anche Call of Duty perché porto anche Call of Duty vi ricordo di iscrivervi e soprattutto ragazzi se volete darmi una mano a crescere potete semplicemente condividere il video con i vostri amici comunque mi sembra sottopondere di avermi già mostrato quella a Greasy Groove ovvero Boschetto Bisunto quella a Junk Junction che dovrebbe essere Crocevia del Ciarpame poi c'è un'altra qua a Paradise Pubs che dovrebbe essere Palme paradisiache in italiano perché io i nomi li sono tutti praticamente in inglese i nomi in italiano non me ne ricordo tutti comunque comunque mi sono già mostrati tre, mi sono mostrati sette mi pare se non ricordo male poi c'è un'altra qua a Retail Row che dovrebbe essere Corso Commercio in italiano non so se effettivamente dobbiate fare un tiro da tre o semplicemente fare canestro non lo so comunque lo scopriremo insieme perché io il video lo sto registrando la sera prima non dopo che siano aggiornate le sfide quindi non lo so comunque vi sto mostrando anche nella minimappa tutti i punti esatti Regasuri poi c'è un'altra qua Snooby Shores che dovrebbe essere Spiagge se non erro come vedete qua sotto anche il puntino esatto in cui si trova dovrebbe esserci neanche una a Pinnacoli se non erro infatti dovrebbe esserci neanche una qua a Pinnacoli qua rega fare canestro con tutto il casino che ci sarà a Pinnacoli sarà bello difficile però le sfide sono anche queste comunque rega fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate la season 5 a me sta piacendo veramente tantissimo quindi rega qua sotto nei commenti potete dirmi una cosa cosa ne pensate appunto poi c'è un altro anche qua che essenzialmente non so nemmeno come lo chiamiate voi perché ogni team la chiamo in modo diverso comunque è quel accampamento quel camping cazzo non lo so dietro il retail row regazzuoli i posi sono finiti quindi vi ricordo di lasciare un bel like cerchiamo di arrivare a 50 e ci becchiamo alla prossima bella regazzuoli ciao 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 ciao